ciao a tutti ragazzi sono usciti due nuovi giocatori showdown per la partita della francia del marocco quindi ci sono due sbc che possono essere interessanti soprattutto in base al risultato quindi ricordiamo che gli showdown come funzionano chi il giocatore che appartiene la squadra che vincerà si beccherà più 2 se invece dovessero pareggiare più 1 attenzione a entrambi quindi chi perde più 0 niente potenziamento però attenzione si conta nei 90 minuti quindi se francia marocco dovesse andare ai supplementari più 1 a entrambi ma andiamo in game così andiamo precisamente a parlare di chi dei giocatori mi raccomando follow the channel youtube come sempre e eccoci qua da una parte abbiamo n3 e dall'altra parte fofana velocemente andiamo a guardare come sono fatti i due giocatori allora abbiamo un 3 di un alto alto come rendimento è buono 188 3 di abilità 4 di debole beh non è ma ci sta attaccante e seconda punta va bene come ruoli macerazione solamente 83 già un po non mi piace 90 difensione molto buono quello sicuramente passaggi invece un po un po me un po un po me dribbling niente di eclatante e fisico vabbè diciamo che questo nzz non mi piace per nulla non ha assolutamente senso secondo me sbloccarlo sia per statistiche ma anche per comunque libidabilità ok gioca nella liga spagnola però marocco si fa un po fatica a ebridare quello che a me interessa più andare a sbloccare fofana perché molto probabilmente la francia batterà il marocco nei 90 minuti si pensa e questo fofana potrebbe diventare abbastanza interessante abbiamo un alto in difesa con 3 3 questa cosa 3 3 abilità sotto il debole 3 per un centrocampista però vabbè fofana è un centrocampista che fa un po la legna può ricoprire il cdc o il cc ok due ruoli allora 79 attenzione allo scatto l'accelerazione solamente 79 andrebbe con il più due andrebbe 81 non è malvagio non è malvagio tiro 76 vabbè non lo calcoliamo passaggi abbiamo 82 con 86 di corto 85 di lungo questo è buono anche la visione 85 è molto interessante quindi questa ci sta dribbling 84 con agita 81 vabbè è un giocatore che è 1 e 76 non è corpulento però è diciamo è ingombrante mettiamola così l'equilibrio è buono sicuramente abbiamo 83 contro palla insomma è un diciamo che palla al piede abbastanza buono difesa 84 con 85 di intercettazioni interessantissimo i contrasti sono buoni insomma è un buon mediano difensivo assolutamente peccato per il tardi debole però buono anche il fisico forza 85 insomma si è buono allora io direi che secondo me questo fofanà io andrei a sbloccarlo soprattutto perché è molto più probabile che si becchi il più due rispetto al marocchino di joseph enzri quindi se vi interessa un giocatore francese che gioca nel campionato francese io lo sbloccherei anche perché il più due è molto papabile e diventa un buon mediano quindi una buona una buona alternativa quindi io lo farai attenzione ripeto al 3 di debole perché quella cosa qua un po mi fa triggerare quindi ragazzi per concludere andiamo un attimo su food bean a vedere il tipo di corsa sulla next gen abbiamo un controllato per fofanà che può diventare allungato sinceramente non gli metto comunque no io non lo farei io gli metterei un bel ombra e diventa un bel rompiscatole diciamo in mediano difensiva ne sa io farei così bello ombra per fofanà invece enzri va niente non può diventare nell'explosive in quel caso qui se decide di sbloccarlo ho allora motore direi motore che gli diamo un po di agilità perché agilità sinceramente un po' penosina così almeno ci sta alla grande aumenta anche di buoni numeri anche accelerazione sprint quindi sì io metterei un bel motore a questo giocatore in modo da renderlo un po' più agile mettiamola così ricordo che comunque non consiglio l'unlock di enzri ma consiglio solamente quello di fofanà perché ripeto è molto più probabile che nei 90 minuti la francia si porta a casa il risultato e quindi si becchia un bel più 2 e questo mediano potrebbe essere un buon mediano davvero ragazzi come sempre fatemi sapere nei commenti chi avete sbloccato chi avete deciso di sbloccare follow carlo youtube mi piace al video ci vediamo al prossimo filmato ciao a tutti